E allora siamo pronti per la finale terzo quarto posto tra Trieste e Costruzioni che ha dato il calcio d'inizio ed Excalibur in completo nero. Chiaramente si parla di Crese League a seguire finalissima primo secondo posto tra PR040 Group e Barbellini. Subito Nigris chiamato in causa per la Trieste e Costruzioni, pallone dentro cercando un compagno, una chiusura di William Boy. E poi bravo però Nigris ad andare più duro di Ciamatore sul contrasto, si lancia in profondità, Nigris fiondata, ben respinta da Andrea Schreiber. Prima vera emozione di questa finale terzo quarto posto col destro potentissimo di Seba Nigris. Corner che viene battuto da Machivic già sul pallone l'undici. Pallone sul primo palo, ancora Schreiber qui un po' fortuitamente, occupa però perfettamente lo spazio sul primo palo e in pratica se la trova addosso. Secondo grande intervento del portiere di Excalibur, una bella finta di Bettoso. Ancora Morelli, la partenza di Zain, Morelli la tiene contro Vitulic, Morelli cerca il piazzato da fermo, sulla propria sinistra si distende. Ciolic è ancora buona, ciamatore la puntata che attraversa tutta l'area piccola, tutta la linea di porta. Si rimane 0 a 0, la risposta però di Excalibur. Porta un po' spazio il pallone, trova Nigris, la sua velocità molto importante. E ora gran palla a servire Machivic che la finta su Boi, siede il portiere Machivic. E poi Zain col petto decisivo a cancellare il vantaggio della Trieste Costruzioni. Aveva fatto tutto benissimo Machivic a partire dallo smarcamento, l'inserimento a fari spenti sfuggendo alla difesa in maglia nera. Poi si è piaciuto un po' troppo in fase di dribbling davanti al portiere. È riuscito la difesa dell'Excalibur a salvarsi. Machivic intanto va a destra da Ivica Giorgiovic. Finto di destro, prova il sinistro. Deviazione direi decisiva qui di Andrea Schreiber perché la palla si spegneva nel 7. Grande soluzione con il mancino a giro sul secondo palo di Giorgiovic. Schreiber c'è. Va a puntare al piccolo trotto ciarmatore, serie di doppi passi. Spazio per il destro, prova a chiuderlo. Schreiber si fida e gli va bene, ma giusto per qualche centimetro. Rasoiata debole del numero 11, Machivic. Comunque velenosa, pericolosa. Schreiber con lo sguardo l'accompagna fuori. Palla che esce non di molto. E allora, opportunità di là. Machivic ha spazio, allo specchio aperto. Piazza il destro. Chirurgico e precisissimo. Dejan Machivic non lascia scampo al portiere Andrea Schreiber. Vantaggio della Trieste Costruzioni. E da una transizione gestita non benissimo da Excalibur con Bettoso che aveva diverse soluzioni. C'era la superiorità numerica per la squadra in divisa nera. E allora sfuma questa possibilità. E arriva, peraltro, pochi secondi dopo il duplice fischio dell'arbitro. Primo tempo, terzo quarto posto. Cresedig si chiude qui con la Trieste Costruzioni. Avanti, 1-0. E allora si riparte con il secondo tempo di questa finale. Cresedig, terzo quarto posto. Excalibur in possesso palla. Excalibur che ha chiuso sotto di un gol la prima frazione. Rete di Dejan Machivic. Ma si riparte con palla da fermo per Excalibur. Parte Settanni che cerca il colpo piazzato. Alla destinata a spegnersi nell'angolino basso. Se l'aspettava lì Cialic. Concede solo calcio d'angolo. Ora non grande intesa tra Morelli e Settanni. Questo corner corto. Rivessa Trieste Costruzioni. Viene incontro e riceve Machivic che ha spazio. Parte Radosavlievic. Lo pesca con una palla al bacio. Dejan Machivic cerca il gol in grande stile. Radosavlievic lo sfiora soltanto la Trieste Costruzioni. Che palla, che tracciante di Machivic. Ha visto dall'altra parte l'inserimento del suo compagno con la maglia numero 4. L'ha servito come meglio non poteva. E ora qua ancora spettacolo dell'undici di Trieste Costruzioni. Con i giri davvero contati. Una grande giocata. Attenzione alla sovrapposizione. È di freddezza. Uomo solo al comando. Gioca benissimo con Seba Nigris. Dejan Machivic. Doppietta e 2 a 0. Per quello che al momento è indubbiamente migliore in campo. Doppietta meritata per la qualità delle giocate di Machivic. Avevamo commentato 30 secondi prima il suo assist per Radosavlievic. Sprecato dal compagno. Qui azione preparata con un tunnel. Poi l'1-2 con Nigris. Palla in fondo al sacco. Tutto molto bello. Bettoso sulla palla vagante. La spara in pratica addosso a Radosavlievic. Occhio perché c'è Machivic in possesso. Finta lo scarico. Serie di esitazioni. Tocco dentro splendido. Per Nigris. Che non si fa ingolosire. Essendo a due metri dalla porta. E affida il più facile dei gol a Radosavlievic. 3 a 0. Per la Trieste Costruzioni. Questo gol in pieno stile Trieste Costruzioni. Con la rinuncia alla conclusione da fuori. Quando magari ce ne sarebbe la possibilità. Entrano in porta col pallone. Come si dice in questi casi. 3 a 0. Rinuncia anche della conclusione da dentro. Perché era veramente attaccato al portiere Nigris. Ma più che saggio. E' bravo anche Radosavlievic a farsi trovare a rimorchio. Prontissimo. 8 più recupero. Al termine di questo terzo quarto posto. Machivic stavolta non rende giustizia alle sue grandi qualità tecniche. Ciccando la battuta al volo. Allora contropiede per Excalibur. Con Bettoso c'è un 4 contro 1. Pallone all'indietro per Ciamatore. Che da lì non può davvero sbagliare. E invece si incarta in fase di controllo. Ancora possibilità. E stavolta sì. La scaraventa in fondo al sacco. Davvero epico. Vitulic in prima battuta. Poi però Ciamatore non ha potuto sbagliare anche la seconda. 4 a 1 la situazione. Iniziava a sembrare stregata la porta avversaria per Excalibur su quell'occasione persa da Ciamatore. Che poi però è stato bravo a crederci. Se ne è ritrovata un'altra simile lì all'interno al limite dell'area piccola. Non ha perdonato. Accelera i tempi Excalibur che comunque crede nella rimonta. Ciamatore adesso. Sinistro dentro verbettoso. Occhio che Morelli è libero. Il sinistro. E qui si mangia letteralmente la rete del 2 a 3 Cristian Morelli. Tutto fatto benissimo. È mancata la precisione sottoporta. Diciamo che in un'ipotetica tabella di rimonta per Excalibur segnale il 2 a 3 quando mancano 5 minuti scarsi. Non era una brutta idea. Era stata un'ottima trama offensiva quella impostata da Excalibur. in tre tocchi davanti al portiere. Adesso poi serve però inavvertitamente Giorgiovic che centra l'incrocio dei pali. Rischia l'Euro goal della tre quarti offensiva. Ivinza Giorgiovic sfortunatissima qui da Trieste Costruzioni. La seguita con lo sguardo speranzoso. Schreiber gli è andata bene. Partita che rimane aperta. C'è Machivic che punta l'avversario. Tempi perfetti per Rado Savlievic che ritorna ancora da Dea Machivic. Vuole piazzare il destro. Altro legno. Traversa clamorosa. Credo l'abbia toccata Schreiber. Infatti è rimessa laterale per Trieste Costruzioni. Altra occasionissima per chiudere definitivamente la partita. A giudicarsi il terzo posto di questa Crese League 2017. vediamo se trova il punto del 2-3 la squadra in completo nero. Sett'anni cerca l'abbattuta da Soterra. Pallone che sfila tutta l'area piccola. Un liscio là a centro area. Il terzo posto nella Crese League 2017 è della Trieste Costruzioni. 3-1 su Excalibur. E adesso in campo Barbellini e Pierre 040 Group per la finalissima che inizierà tra pochi minuti. Grazie. 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 Grazie.